Voi Pio, vuoi il caffè? No, no, ho già... Per cortesia un caffè? Si Caldo qua Ma ieri sera in anfiteatro, che è successo? Ma che è successo? Niente Ma è, non è niente Ma dice che è arrivato il barese Perciò devi essere stato per forza tu Non so perché gli hanno detto non so che cosa la fidanzata Iniziata a manare palata a destra e a sinistra No Tu non devi fare così Io? Tu devi prendere la vita che è più rilassatezza, più calma Stai tranquillo sulle cose, ma... Pio, ma Pio Ti mi dici a te, ma io non lo so Io lo dico per te, mica lo dico per me No, lo so, ma mi conosci Da io Non sarei nemmeno capace di ammazzare una mosca Meno che... Meno che non è per legittima difesa Mette la mosca arriva Mi devo difendere, là, mi devo difendere Per me Oh, giovane Sta bebbe, lei fa Da me è tutto No! No! NowYouTisaNO!!! Oh!!! NowīyouTito!!! pla," say yes!" I do! owowowowowowowowowowowaw!